cerca di parlare a noi utilizzando la nostra cultura, noi riusciamo a relazionarci, lo spirito è sempre uno ma parla a diversi esseri umani in epoche diverse, in luoghi diversi utilizzando gli strumenti che gli esseri umani sono in grado di recepire, però lo spirito che sta dietro è sempre lo stesso. Bene, io farei un applauso a Marco Massignan, lui adesso appunto avrà qua la sua postazione sul tavolo, se vuoi fare quattro piacchiere con lui, acquistare il suo libro così vedere un pochettino il percorso che lui ha fatto in questi anni, ormai 20 anni, è un'esperienza per i dativi o comunque per queste persone avere questa tipologia di esperienza vuol dire avere saggezza, conoscenza, per cui qualcosa di importante. Speriamo. Va bene, allora, ringrazio, iniziamo appunto, un bel applauso, grazie Marco Massignan e a qualche minuto. Grazie a tutti. E arrivederci alla prossima. Grazie.